Le competenze che acquisiscono i ragazzi dopo un'esperienza di alternanza scuola-lavoro, oltre a quelle tecniche specifiche di indirizzo, sono quelle in particolare chiamate cosiddette trasversali, cioè per esempio il rispetto delle regole, la precisione, la puntualità. I nostri ragazzi hanno fatto dei progetti di alternanza scuola-lavoro nel settore della domotica, dove abbiamo vinto il primo premio di alternanza scuola-lavoro quest'anno e alcuni di loro addirittura sono riusciti a lavorare presso degli installatori qualificati che li hanno seguiti nel percorso di alternanza scuola-lavoro. Diciamo che per noi è un grosso successo, in particolare perché sono ragazzi comunque che si trovano, abitano in zone a forte disoccupazione. Per cui per noi è stato veramente un successo. L'orientamento fatto attraverso l'alternanza scuola-lavoro è importantissimo per noi perché i ragazzi sanno già cosa devono fare, cosa devono approfondire, cosa devono studiare per migliorare le proprie competenze, per poter eventualmente effettuare le giuste selezioni per poter essere assunti appena riescono a terminare gli studi scolastici. Per cui sanno già che tipo di selezioni affronteranno, sanno già quali conoscenze e competenze devono possedere e come comportarsi anche in un colloquio, in una selezione e quant'altro. Grazie